Musica Ben trovati a una nuova edizione di Ora Tg, incidente mortale questa notte a Santa Venerina in provincia di Catania. La vittima è un giovane di 18 anni, viaggiava sul sedile posteriore, l'auto si è schiantata contro un muro, era insieme agli amici, tornava a casa. Ma c'è stato un altro grave incidente in queste ore proprio nel Catanese a Mister Bianco ed è grave un dodicenne investito dalla madre che faceva retromarcia. Sentiamo tutti i particolari. Mario Grasso. Continua a tingersi di rosso l'asfalto delle strade catanesi. La scorsa notte l'ennesimo incidente che ha sconvolto la piccola e tranquilla comunità di Santa Venerina, che piange il diciottenne Claudio Rapisard deceduto per le gravissime ferite riportate dall'urto della fieta Grande Punto sulla quale viaggiava contro un pilastro in cemento che delimita la carreggiata viaria della provinciale che collega Santa Venerina alla frazione di Linera, all'altezza delle abitazioni popolari del villaggio Santa Maria Goretti. Il ragazzo era a bordo della vettura guidata da un coetaneo quando, per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Santa Venerina, l'auto ha finito la propria corsa schiantandosi contro il pigliastrino in cemento. A bordo del veicolo quattro amici, quattro coetanei, che a luna e mezza di notte viaggiavano assieme a Claudio in direzione 10 Reale. Poi l'impatto, violentissimo, tragico. Il povero Claudio Rapisarda, studente all'ultimo anno dello scientifico Leonardo, è rimasto intrappolato tra le lamiere della Grande Punto, accartocciatasi su se stessa. I vigili del fuoco di riposta hanno lavorato di buona lena per tirare fuori dalle lamiere lo sfortunato diciottenne tempestivo, anche l'intervento dei soccoritori del 118, che hanno immediatamente accertato il rigidissimo trauma cranico, trasportando il ragazzo al Canizzaro dove è deceduto. Contusioni non gravi per i compagni che erano con lui in macchina. Stamattina alla provinciale è stata meta di un vero e proprio pellegrinaggio di tanti, tantissimi ragazzi che conoscevano Claudio Rapisarda, descritto come uno giovane pieno di vita, amante del proprio paese, appassionato di calcio. Questa mattina intanto da segnalare anche un grave incidente a Mister Bianco. Un dodicenne è stato ricoverato in prognosi riservata al Vittorio Emanuele di Catania dopo essere stato investito con l'auto dalla propria mamma. La donna questa mattina stava effettuando una retromarcia in una strada in discesa in via Girolamo-Rosano a Mister Bianco a Punto, quando ha trovato il figlio schiacciandolo contro un'altra vettura in sosta. Trasportato immediatamente in ospedale è stato sottoposto ad intervento. I medici si sono riservati la prognosi anche se non sarebbe a rischio di vita. E ancora la cronaca. Un incendio si è sviluppato questa mattina in un silos della raffineria di Milazzo. Le fiamme sono state notate subito ed arginate. Fortunatamente dalla squadra antincendio interna alla raffineria sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di tutta l'area. A seguito dell'incendio sono rimaste ferite tre persone in modo non grave. Un dipendente della raffineria e due lavoratori dell'indotto. In due hanno riportato ustioni a mani e viso. Non sono però gravi uno è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania per precauzione. Intanto sull'episodio indaga il commissariato di Milazzo coordinato dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. E adesso l'ennesima operazione antimafia. La DIA di Catania ha sequestrato beni per 20 milioni di euro al clan dominante aderente alla stida di Vittoria. Sentiamo tutti i particolari. Un lucroso e ben articolato traffico di cocaina tra la Sicilia, l'Olanda e il Lazio. E' quanto scoperto dalla direzione investigativa antimafia di Catania che, in collaborazione con i centri operativi di Roma e Catanzaro, ha eseguito su disposizione della sezione penale del Tribunale di Ragusa un sequestro di beni pari ad oltre 20 milioni di euro appartenente a Giovanni Cilia, 63enne originario di Vittoria, elemento di spicco del clan mafioso dominante aderente alla stida, organizzazione locale al comando in tutta la provincia di Ragusa. Giovanni Cilia, conosciuto come il presidente, era un noto punto di riferimento per gli uomini della stida, tanto da garantire protezione e asilo ai latitanti che si nascondevano nel territorio siciliano. Era stato arrestato negli anni 90 nell'ambito dell'operazione Squalo riguardante soggetti ritenuti affiliati al clan Diamante Carbonaro per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione e porto illegale di armi ed estorsione. Scontata la pena, la gestione dei suoi affari era passata negli ultimi anni ai figli Emanuele e Rosario, operanti nei settori florovivaistico, edilizio e immobiliare in territorio ragusano. Il provvedimento è scattato nell'ambito di una più vasta indagine condotta in collaborazione con l'autorità giudiziaria olandese e con la procura della Repubblica di Reggio Calabria, volta a ricostruire le attività illecite della famiglia Krupi nella zona di Latina, affiliata alla potente Endrina dei Commisso. Principale attività dei fratelli Krupi era l'importazione dall'Olanda di ingenti quantitativi di droga destinata al mercato italiano. Per il trasporto del denaro contante necessario all'acquisto della cocaina, l'organizzazione si serviva dei camion adibiti al trasporto dei fiori. Il contante veniva prelevato, oltre che da Calabria e Campania, anche dalla Sicilia, con la stretta collaborazione dei figli di Giovanni Cilia, Emanuele, prestannome e uomo di fiducia di Rocco Krupi e Rosario, formalmente titolare della società Medflor di Vittoria. Oggi con questa operazione si colpisce il cuore dell'organizzazione criminale. È un'organizzazione criminale che faceva cartello con uno dei più potenti cartelli della mafia calabrese, i commisso e i Krupi sono delle famiglie che hanno propensione internazionale. Riescono a dialogare con l'America Latina e trasportando lo stupefacente attraverso il canale olandese per poi farlo entrare nel territorio nazionale. Camminando a braccetto con l'andrangheta, è chiaro che dà una leadership assoluta nel trasporto dei fiori, tanto che questa operazione ha avuto un eco internazionale. Sicuramente davanti agli occhi di tutti c'è una risposta delle istituzioni che è devastante per le organizzazioni criminali. Da una parte vengono arrestati i padrini, dall'altra parte vengono svuotate le loro casse. E credo che questo è veramente il manuale dell'antimafia. Un altro dato che mi preme sottolineare è che sono 70 milioni di euro sequestrati quasi in due mesi alle organizzazioni criminali. Gli accertamenti patrimoniali sul conto di Giovanni Cilia, svolti dal personale della DIA, hanno portato alla scoperta di una rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e i patrimoni posseduti. Oltre 20 milioni di euro è il valore del patrimonio sequestrato composto da nove aziende operanti nella provincia Iblea, nel Lazio e in Calabria, un magazzino di invito ad attività commerciale ubicato a Vittoria, una villetta nella frazione marinara di Scoglitti, nove appartamenti con garage e terreni ubicati a Vittoria, due locali deposito di circa 450 metri quadri alla mezzia terme, autoveicoli, motocicli e numerose disponibilità bancarie e finanziarie. E adesso ancora la cronaca, ci spostiamo però nel Messinese dove è stata smantellata dalla Guardia di Finanza una banda di trafficanti di droga, stupefacenti, che giungevano dall'Albania. Ci sono nove arresti, il capo dell'organizzazione era una donna, Francesco Larosa. C'era una donna a capo di un gruppo criminale che perificava un fiorente traffico di droga tra l'Albania, la Puglia e la Sicilia. L'attività è stata smantellata dagli uomini della Guardia di Finanza di Messina dopo il sequestro di cinque panetti di hashish, del peso complessivo di circa 5,50 kg di cocaina. Agli arrivi degli imbarcaderi privati della società Caronte Tourist, scattate subito ulteriori indagini, con il provvedimento del GIP che ha disposto nove misure cautelari, tre delle quali in carcere e sei agli arresti domiciliari, a finire nelle maglie della giustizia. Un'organizzazione criminale che gestiva un lucroso traffico di stupefacenti. La capellare attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, ha permesso alla locale nucleo della Polizia Tributaria di ricostruire una serie di viaggi finalizzati all'acquisto di cariche di droga operante nella comprensione messinese e capeggiata da tre fratelli, tra cui una donna. Pare che l'organizzazione criminale pianificasse con fornitori pugliesi e albanesi dei viaggi illeciti, servendosi di corrieri che sfruttavano il servizio navetta dei pullman di linea Puglia-Sicilia per trasportare i carichi di droga dalla capoluogo pugliese a Messina. La sostanza stupefacente giunta nella capoluogo pluritano veniva poi consegnata ai pusher locali con il compito di curarne lo smercio nelle piazze cittadine. Un giro d'affari che complessivamente avrebbe fruttato con la vendita al dettaglio quasi mezzo milione di euro. Degli arrestati, otto sono cittadini italiani ed uno albanese. E ancora la cronaca carcere per Gianluca Modica di 30 anni, il tossicodipendente che il 13 dicembre scorso ha sgozzato le due sorelle di Ramacca, Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni per rapina. Il GIP di Galtagilone ha convalidato il fermo ed ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per duplice omicidio aggravato e rapina. Secondo gli investigatori che hanno ottenuto dall'indagato la ricostruzione dei fatti, Modica era alla ricerca di 200 euro per saldare un debito contratto nel mondo dello spaccio. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. L'uomo nel pomeriggio era tornato sul luogo. Era in piazza Margherita a Ramacca davanti alla casa delle due donne, mischiato tra i curiosi. Probabilmente spiegano i carabinieri, essendo un abitué della piazza, in passato oggetto di un'operazione antidroga, non voleva che si notasse la sua assenza. Davanti intanto all'evidenza, il trentenne in caserma ha ammesso l'omicidio. Adesso ci spostiamo a Daci Sant'Antonio, nei pressi del bosco di Santa Maria La Stella. Sono stati trovati scarti di macellazione, presumibilmente abusiva, in un terreno privato. L'area era diventata irrespirabile. La testimonianza del proprietario del terreno nel servizio di Francesco Larosa. Una scena disgustosa, odore navosebondo in una zona residenziale nella comune di Aci Sant'Antonio. All'interno di un'area privata sono stati infatti abbandonati scarti di macellazione, presumibilmente abusiva. La scoperta è stata fatta in un'area privata, a fondo naturale, che parte dall'ex via Collegio Pennisi in Contrada Zerbate, in quello che è meglio conosciuto come Bosco di Santa Maria La Stella, non molto distante dal più noto Bosco di Aci. Scarti animali contenuti all'interno di una decina di sacchi di iute e plastica, abbandonati in un'area che confina con un'officina meccanica. I residui animali, in stato di decomposizione, emanano un odore navosebondo, percepito in gran parte della zona circostante. I proprietari del terreno, non transennato perché dà accesso ad altre pertinenze, hanno subito denunciato il tutto ai carabinieri della locale stazione, riservandosi di informare anche l'amministrazione comunale, che stamattina, da noi interpellata, si è dettegnare non a conoscenza di quanto avvenuto. Si tratta di residui di macellazione clandestina, messi in diversi sacchi, che emanano un odore veramente navosebondo, e la zona è chiaramente abitata a vellette, quindi chiaramente dà fastidio. Si tratta di un reato penale, di inquinamento ambientale, e quindi si ha il sospetto che ci siano attività di macellazione clandestina. Noi abbiamo visto questi sacchi, abbiamo provveduto a denunciare che sarebbe venire l'accaduto. Si tratta anche di un fatto spiacevole, sgradevole, anche dal punto di vista ambientale, perché là vicino insiste il SIC, la zona di interesse comunitario, che sono le sciarelaviche di Santa Maria della Stella, che è l'eluzione del 1329, è già riconosciuta dalla Comunità Europea, zona di interesse comunitario. Quindi chiaramente qua si sta facendo scempio del territorio gettando Ethernet, perché c'è anche Ethernet, residui di tagli, di sboscamenti, poi ora questi residui di macellazione. Di questo, malgrado si tratti di un'area privata, ha interessato l'amministrazione pubblica comunale? No, per il momento non abbiamo avuto il tempo materiale di farlo, ma abbiamo intenzione di interessare anche il Comune, perché è giusto che intervenga, anche perché si tratta di questioni di salute pubblica, e anche l'ASP in ogni caso. È una strada privata, ma che non potete transennare, perché dà accesso, mi diceva, ad altre proprietà? Sì, chiaramente si tratta di una stradella interpoderale, che dà accesso a diverse proprietà, quindi noi non possiamo chiuderla questa strada. La denuncia è già stata un deterrente, visto che alcuni sacchi di quelli precedentemente presenti sono stati rimossi? Sì, sicuramente è stato un deterrente, perché noi abbiamo fissato su un panno della luce la denuncia segretata, e chiaramente abbiamo notato che si è dimezzato il numero dei sacchi di residui di macellazione, cioè se li sono portati. Chiede una maggiore vigilanza sul territorio? Sicuramente sì, il territorio deve essere oggetto di controllo, soprattutto questo territorio che rappresenta un'emergenza naturalistica importante. Torniamo a Palermo, la politica regionale. Roberto Di Mauro e Giancarlo, cancelleri della maggioranza del Movimento 5 Stelle, rispettivamente eletti vicepresidenti dell'Ars, durante la seduta di ieri in un clima non proprio sereno. Gli altri punti sono stati rinviati a domani. Va pian piano componendosi l'ufficio di presidenza della 17esima legislatura dell'Assemblea regionale siciliana. E' eletti ieri due vicepresidenti. Si tratta dell'autonomista Roberto Di Mauro, che ha ottenuto 37 voti, e che è anche vicario, e di Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle, che di voti, grazie ad un'intesa raggiunta con il PD, ne ha ottenuti 27. Un voto ciascuno, invece, è andato a Matteo Mangiacavallo del Movimento 5 Stelle e ad Antonello Cracolici e a Giuseppe Lupo del Partito Democratico. In aula erano presenti 68 deputati, assenti Claudio Fava del gruppo Misto e Marco Falcone di Forza Italia. C'era invece Pippo Gennusso, assente nelle precedenti sedute per un grave lutto familiare e che ieri ha prestato giuramento, una alla scheda bianca. L'asse tra PD e Grillini, che potrebbe essere l'anteprima di un'alleanza a livello nazionale, ha portato, come dicevamo, alle elezioni di Giancarlo Cancelleri. Ad ammetterlo è stato lo stesso ex candidato alla presidenza della regione. Il PD ha affermato, ha capito che non avrebbe avuto i numeri per ottenere un vicepresidente. Siamo coscienti del fatto che tutti i gruppi di opposizione devono essere rappresentati all'interno dell'ufficio di presidenza e siamo pronti, non per un accordo, ma perché ci sembra corretto, ha proseguito, a rinunciare alla figura del deputato questore. Non stiamo giocando la stessa partita che hanno giocato gli altri nella passata legislatura, ha sottolineato, quando il Movimento 5 Stelle è stato escluso dall'ufficio di presidenza. Dei 27 voti andati a Cancelleri, 7 sono infatti attribuibili ad una parte degli 11 parlamentari DEM. Domani alle 16 le elezioni dei questori e dei segretari che affiancheranno Gianfranco Miccichè, eletto presidente sabato scorso alla guida del Parlamento più antico d'Europa. Ancora la cronaca. Il personale del commissariato Borgo Ognina insieme alla Polizia Municipale di Catania ha effettuato dei controlli mirati al contrasto dell'illegalità diffusa per la vendita, in particolare di prodotti privi di marchio C'è in occasione delle festività natalizie, che come noto potrebbero essere non sicuri, e dunque al contrasto delle violazioni in materia dei diritti dei lavoratori. in particolare rilievo assume il controllo effettuato all'interno di un negozio molto grande di cinesi ubicato in Viale Vittorio Veneto. All'interno del negozio sono stati rinvenuti numerosi prodotti, tra cui 400 giocattoli posti in vendita, naturalmente privi del marchio, il cui utilizzo potrebbe essere ritenuto pericoloso per i bambini. E adesso invece parliamo di Natale, perché è possibile anche questo Natale, come già lo scorso anno, acquistare dei panettoni a sostegno delle donne colpite da tumore a seno, e al seno in particolare per sostenere le attività messe in campo dall'associazione Il Filo della Vita. Daniele Cantarella Si rinnova anche questo Natale l'appuntamento della solidarietà con l'associazione catanese Il Filo della Vita, da anni impegnata sul territorio nella lotta contro il tumore al seno e a sostegno della prevenzione. Il panettone della solidarietà, frutto dell'alta qualità pasticcera dei fratelli Fiasconaro, è stato riproposto avvolto in preziosi ed eleganti fular di seta, realizzati dalla nota stilista catanese Francesca Paternò. Una dolce proposta solidale per fare gli auguri di Natale, aderendo ad un progetto a favore dei malati oncologici. Il ricavato dei panettoni servirà all'associazione per continuare le numerose attività svolte nel corso dell'anno, gli screening gratuiti e la comunicazione della prevenzione. Quest'anno abbiamo voluto ripetere di nuovo l'esperienza dei panettoni, grazie a Francesca Paternò che ci ha confezionato questi bellissimi fular di seta che vedete, è a Fiasconaro che già dall'anno scorso collabora con noi e grazie anche a tutte le socie che si sono spese proprio per la vendita dei panettoni perché siamo riusciti a venderne 850. Significa che c'è stata una gara di solidarietà non indifferente. Con il ricavato noi cercheremo di aiutare persone indigene, quindi donne che sono in cura e che sono indigenti e non riescono neanche a comprare la parrucca. Cercheremo di promuovere i programmi di screening come già facciamo da tempo perché comunque abbiamo capito che prevenire è meglio. Se tu riesci a comunicare la cultura della prevenzione riesci, non dico a non far venire il tumore, però riesci magari a prenderlo in tempo, a cercare di curarlo in maniera più adeguata. Perché oggi si guarisce? Oggi si guarisce, sì, noi ne siamo un esempio. Io sono stata operata 4 anni e mezzo fa e come mi vedete sono riuscita ad uscire da questo piccolo neo che è capitato sulla mia strada, però l'importante è guarire. Le vostre visite, i vostri screening sono effettuati da tra l'altro medici dell'Humanitas che si mettono a disposizione e non solo dell'Humanitas. Sì, noi abbiamo un programma di screening che partirà a gennaio come già è stato effettuato lo scorso anno. Il nuovo programma partirà a gennaio e poi comunicheremo alle socie i vari ambulatori dove si terranno e le varie visite gratuite. Vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra associazione perché solo stando vicino e partecipando ai programmi di screening e prevenzione si può riuscire a curare e a prevenire il tumore. Tra l'altro vi avete inaugurato da poco la casetta, cos'è? Sì, abbiamo da un po' di mesi, abbiamo scelto una sede vicino ad Humanitas. In questa sede ci riuniamo per le nostre riunioni con le socie, abbiamo da poco fatto una tombola di beneficenza. Inoltre abbiamo un laboratorio creativo dove il sabato mattina le socie partecipano insieme alla responsabile che è Teodora Caruso, una delle consigliere del direttivo. Ci hanno aiutato al confezionamento dei panettoni, sono state tutte presenti. Quindi oggi è un modo dolce, raffinato per augurare buon Natale dal filo della vita. Sì, auguri a tutti. Sereno Natale. Ed il Natale è anche aggregazione e allora cresce grazie all'entusiasmo ma anche i sacrifici dell'intera comunità, il presepe vivente dinunziata di Mascali che è stato presentato nel dettaglio ufficialmente alla presenza del sindaco ma anche dell'assessore regionale. Siamo giunti alla settima edizione. Si accendono le luci, le strade e le antiche abitazioni riaccolgono personaggi e mestieri di una volta. Si popola un intero paese che diventa luogo di attrazione scelto dai visitatori ed orgoglio dei residenti. È giunto alla sua settima mese in scena il presepe vivente dinunziata di Mascali che sarà riproposto quest'anno nei giorni clou della parentesi natalizia. La manifestazione è nata da un'idea di padre Carmelo di Costa e dei suoi parrocchiani e cresciuta negli anni, arricchendosi di particolari coinvolgendo sempre più cittadini. L'intera comunità partecipa con entusiasmo alla riproposizione live della vita di un tempo. Crescono di numero i protagonisti che hanno indossato gli abiti tipici entrando nel ruolo già in occasione della presentazione ufficiale. Quest'anno sono circa 50 con 130 figuranti. Quest'anno abbiamo anche delle postazioni in più con mestieri in più. In inverno soprattutto miriamo ad avere un presepe, quello dinunziata, che il nostro sogno come amministrazione è quello che utilizzando dei luoghi splendidi come quello dinunziata una partecipazione così attiva da parte dell'amministrazione possa diventare uno dei più bei presepi di Sicilia da mostrare negli anni. Un tuffo nel passato, tradizioni veicolate rese autentiche da personaggi in carne ed ossa nel set naturale delle case non più abitate e ripopolate. Per i visitatori anche l'occasione di degustare i prodotti tipici e compiere un tour sacro artistico nella chiesa di Nunziatella e la basilica paleocristiana presente per i suoi mosaici nei testi di storia dell'arte. Ogni anno diventa sempre un'esperienza esaltante e gioiosa perché si crea quel clima di famiglia e di accoglienza, segni che ci fanno vivere realmente la gioia del Natale. Il presepe vivente 2017 sarà inaugurato il prossimo 26 dicembre con repliche il 30 ed il 5, 6, 7 gennaio. In Sicilia di Corsa Marco Frattini, campione pluri, campione italiano di maratona della Federazione Sordi presenta a Catania e provincia in diversi appuntamenti il suo libro Vedere di Corsa e sentirci ancora meno. Sono tanti gli appuntamenti previsti. Il libro è stato già presentato, si tratta della prima fatica letteraria di Frattini all'associazione Costarelli di Acireale ed è stato presentato anche questa mattina al CUS di Catania. Cosmo Capoverde, il protagonista del volume, si ritrova da un giorno all'altro senza più sentire nulla a causa di una malattia. Cosmo però non si perde d'animo e comincia a correre, parte da qui vedere di Corsa e sentirci ancora meno che un diario autobiografico scritto nel 2010 da Marco Frattini. Un diario che coinvolge a passione, usa la maratona come metafora di un percorso personale che lo porta a guardare al mondo da nuovi punti di osservazione, a scoprire di poter affrontare la vita con una rinnovata determinazione. Adesso ci spostiamo a Giarre, meglio parco che sporco. Ci siamo già occupati in passato, in questi mesi, dell'iniziativa ambientalista che ha coinvolto tanti istituti. Oggi la manifestazione conclusiva al liceo classico a Giarre. E' un percorso di crescita, un percorso di amore, verso il vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, ma che molti scambiano per discreta pattumiera, se non proprio per una discarica a cielo aperto. E' così l'ente parco dell'Etna, in collaborazione con alcune scuole del territorio, ha voluto avviare una campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo centinaia e centinaia di studenti in uno progetto di informazione, tutela, cura, dei beni naturali e paesaggistici che tutto il mondo invidia al Mongibello. Questa mattina, nella sala auditorium dell'Istituto Amari di Giarre, la chiusura di una parte del percorso con la consegna degli attestati agli studenti che hanno preso parte al progetto dal titolo Meglio Parco che Sporco, a cui ha preso parte anche il sindaco di Giarre, Angelo Danna, oltre al presidente dell'ente parco dell'Etna, Marisa Mazzaglia. La manifestazione Meglio Parco che Sporco, che è una manifestazione che mette insieme scuole, associazioni, enti e istituzioni per compiere un gesto concreto di pulizia dell'ambiente, ha contribuito a creare questo clima, questo interesse nei confronti dell'Etna Patrimonio dell'Umanità. Lo vediamo anche in tante altre attività che si svolgono con il Parco dell'Etna, tra cui l'alternanza scuola-lavoro che si svolge anche con i ragazzi del liceo Amari, con i ragazzi del Sabin, con i ragazzi dell'Istituto del Circolo Don Bosco, con i ragazzi del Leonardo, tanti istituti di quest'area che noi oggi andremo non soltanto a premiare con la consegna di una targa, ma soprattutto a sensibilizzare con la consegna di un albero. Pianteremo alberi in ciascuno dei plessi delle scuole che hanno partecipato a questo progetto? Diciamo tantissimi sono gli obiettivi che noi ci prefiggiamo partecipando a questo importantissimo progetto, che non è solo conoscenza scoperta del territorio, del territorio Etna in modo particolare, ma è anche un avvicinarsi ai valori fondamentali che sono appunto quelli dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente. E' tutto, ci fermiamo qui per questa edizione di Ora TG, vi ricordo che potete seguirci anche attraverso il sito internet reitv.it ed il canale YouTube. Grazie dell'attenzione e vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Le previsioni meteo per la giornata del 20 dicembre 2017, cielo variabile su tutta la Sicilia, rischio precipitazioni sul Siracusano, mari calmi, venti moderati. Le temperature nell'isola uscilleranno da 12 a meno 4 gradi. A Palermo, Missina e Grigento le massime. A Catania 10 gradi la minima, 11 la massima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.